è andato tutto bene insomma è stato una cosa nuova ovviamente però che ha riservato molte emozioni insomma emozioni aspettate emozioni che non abbiamo mai provato prima in una diretta televisiva sono felice del lavoro perché abbiamo lavorato bene e tanto abbiamo lavorato ma bene prima di siedere sul palco ero molto ansioso insomma molto preoccupato però questa volta ho detto basta basta smettila tira via tutta la tensione nervosismo che hai si te stesso alla fine così è stato alla fine in realtà tutti non si sono innamorati di me ma si sono innamorati della ballerina che è nuovo vicino grazie lei la recepizione è fenomenale in realtà solo perché c'era la ragazza lì tutto quello che fa scena non passo io ma passa alla ragazza insomma è stato bello ogni esibizione diciamo che è una motivazione per la prossima esibizione c'è sempre di più c'è sempre tanto di più da lavorare sistemare trarre consigli dalle critiche che ricevi e insomma ecco vedremo bisogna migliorare se stessi ecco cercare di dare sempre il meglio insomma vedremo nella prossima settimana c'è che farò qualcosa di diverso e vedrete un laner che non avete mai visto prima molto più posato non più il rompipalle di tutte le volte più leperattivo diciamo ma cercherò di essere fermo e diretto quindi vi saluto e speriamo vada tutto bene alla prossima grazie a tutti